buonasera a tutti dai k5 xilofono shanitango qua nel mio check stasera vi voglio presentare l'fdm duo della elad una nuova scoperta acquistata da i k5 pwq che mi ha gentilmente prestato l'apparecchio per delle comparazioni iniziamo diciamo siccome è notte e sera dalla banda degli 80 metri con un'antenna di ricezione un filo un filetto praticamente questo diciamo che questo è il filetto ecco un end feed di 40 metri appunto che parte dalla dall'antenna direttiva e va giù nella valle ok velocemente ascoltiamo un segnale abbastanza basso diciamo di compararlo col duo le kraft k3 con il commutatore attualmente sinistra k3 ok 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 notare la perfetta silenziosità del duo nel momento che comodo l'antenna cosa quasi pazzesca ok 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 ... 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